A pochi passi dal centro paese di Mosso, in posizione panoramica e immerso nella natura verdeggiante tipica della zona, si propone in casa indipendente costituita da due sole unità, appartamento al piano primo di ampie dimensioni, termo autonomo e senza spese di gestione, adiacente alla casa terreno in parte pianeggiante di circa 3300 metri quadrati, garage a corredo La zona giorno è costituita da cucina abitabile e salotto caratterizzati da terrazzo, tre sono le camere matrimoniali, una delle quali è anch'essa con terrazzo Le finiture sono originali, ben conservate ma che necessitano di ammodernamento, permettendone così la totale personalizzazione Grazie a tutti! Il bagno con vasca è di servizio ad entrambe le zone Collegato da scala interna generoso sottotetto mansardato potenzialmente fruibile per ampliamento della proprietà Per tutte le informazioni chiama o scrivi una mail, siamo sempre a tua disposizione Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!